Mi hanno invitato a un concerto con 600.000 persone a Bucarest? Ma secondo voi sono scemo e non ci vado, ovvio! Negli ultimi tempi, Subit Life hanno aggiunto la possibilità di fare carriera nel mondo della musica. Quindi dal momento che uno dei miei più grandi talenti nascosti è proprio la musica, Oggi cercheremo di diventare dei cantanti ricchi e famosi su Subit Life. Prima di cominciare però vi ricordo che tutti i giorni tranne la domenica potete trovarmi in live sul mio canale Twitch. Link in descrizione e nel commento pinnato in alto. Andiamo a cantare! Sapete che Mia Agnello mi piace un sacco come nome? Da proprio l'idea di cantante che potrebbe vincere Sanremo, ci sta! Quasi quasi non cambio niente, cominciamo la vita di Mia. E mi raccomando splendori, lasciate un like di buon auspicio perché un like equivale a un disco d'oro. E cominciamo benissimo, non sappiamo chi sia il padre? Sono stata adottata dalla signora Amara Agnello, una camionista. Coraggiosa adottare qualcuno a vent'anni facendo come lavoro il camionista. Non so quanto tempo avrà per badare a me. Meglio, più tempo dedicato alle lezioni di canto. La mamma mi vuole prendere un gattone di nome Ursula, che è fottutamente pazza. Sì, la voglio! Il nome è carino per un gatto, Ursula, mi piace. Pinta rimane comunque la più bella, però. No, Ursula! Come è morta Ursula di disidratazione perché la mamma si è dimenticata di darle da bere? Ma arrestate quella donna! Vabbè, vorrei dire che dovrò affogare la mia tristezza in uno strumento musicale. Ora, non vorrei dire una stronzata, ma tecnicamente tutti quanti i cantanti dovrebbero essere in grado di suonare il pianoforte. Sicuramente ho detto una grandissima stronzata, ma so che viene usato tanto, perciò andiamo a fare lezioni di pianoforte. E la mamma mi fa andare, grazie mamma, almeno quello. Già mi hai ucciso il gatto, almeno fammi imparare a suonare il pianoforte. Mi sa che posso fare tutto, tanto paga lei. No, non è un problema, vero? Vai. Sta postando dei meme imbarazzanti con tour di me sui social media. C'hai sette anni, che cazzo ci fai sui social? Milana! E vai, è stata sospesa da scuola per tre giorni, ti è stronza! E una volta arrivati a otto anni, finalmente possiamo imparare a cantare, daie! Can we pretend a tear a place in the night sky like shooting stars? Devo assolutamente imparare a cantare, però, perché più che il pianoforte qua, c'ho bisogno di una buona voce. Voglio vincere i nemici di Filippa di Maria e il festival di Ransemo. Che belli nomi fake, li ho sempre odiati. Dai, diciamo che adesso la qualità della mia voce è abbastanza accettabile. Tanto di fatto usano tutti i autotune. Giunti all'età di undici anni, sappiamo suonare quasi perfettamente la chitarra. Sappiamo suonare perfettamente il pianoforte. In realtà quasi perfettamente, c'è un migolo di linea bianca, che quindi... Bop! Perfetto! In tutto questo siamo anche arrivati alle medie, quindi forse qua c'è qualche attività extracurricolare, POG. C'è il coro, esattamente quello che volevo. Gli altri componenti del coro ti hanno nominato come Assistant Section Leader. Che cosa mi significa all'interno di un coro questa cosa? Non lo so, ma accetto! Mia Agnello avrà una nuova amica. Mia Garibaldi. Quindi in questo modo Mia potrà dire di avere un'amica di nome Mia. Quindi la mia mia di Mia. E cominciamo alle superiori. Cos'è che vuoi farmi fare? No, non dirmi che non c'è il coro. Non c'è il coro. Però c'è l'orchestra. E mi hanno selezionato. Bene! Ah sì, il mio YouTuber preferito. Jack Spedice. Oh yeah! Fare questi versi per gente che guarda YouTube mi sembra un po' esagerato. Immagino che voi non facciate... Oh yeah! Ogni volta che guardate un mio video. E se lo fate, basta. Non fatelo più. Limitatevi a lasciare un like e iscrivervi al canale, come vi ho già detto in precedenza. Mi renderebbe molto più tranquillo e felice. Oh cazzo, adesso mi costano le lezioni. What? Ho capito che sono diventato maggiorenne, ma vado ancora a scuola. Sono sotto la responsabilità di mia mamma. Che... Mamma! Hello! Carriera. Musicista. Andiamo con solo artist. Non voglio far parte di una band, voglio cantare. Voglio essere l'unica star di questo one man show. Anzi, one woman show. Tipo di carriera. Cantante. Eccomi qua. E scegli il tuo record label. Spirit Entertainment sa di roba seria. Pessimo, ma nonostante tutto... Ah, perché loro fanno reggae. No, non c'entra niente. Però no, dovrei fare reggae, che è un genere molto di nicchia. Ho bisogno di qualcosa di più grande. Proviamo Horseshoe Beats. È andata malissimo anche qua e non mi hanno offerto nulla. Potrei aver fatto una puttanata. Fermi tutti. Con la Overture Records è andata alla grande. Che cosa vogliono farmi cantare loro? Country. Beh, però tecnicamente anche la prima Taylor Swift era country, no? Sapete cosa? Accetto. Signori, siamo ufficialmente dei cantanti. E forse sapete una cosa? Mi converrebbe partire con un singolo, piuttosto che con un intero album. Sì. Scegli il nome della... Oddio, che bello. Posso anche scegliere come chiamare le canzoni. Pog. Cinque minuti a mezzanotte. Grazie, Cenerentola. Diamo un titolo più decente. Tipo... Ciao, ti amo, ma tu no. No, non posso mettere lo spazio. Tuno non vuol dire niente. È il maschile di Tuna. È il Ton. Bello compra questo singolo. Ci sta alla perfezione. E la copertina dell'album cosa potrebbe essere? La mia testa che esce da terra. Sì, mi piace. Fai questo album, speriamo che venda bene. Uno strip club karaoke bar. Che cosa figa, voglio andarci. Direi di non gioinare se il manager me lo sconsiglia e... What? Il mio primo singolo ha venduto 609.000 copie per un totale di 3.651.000 euro di fatturato. Di cui a me ne entrano soltanto 365.000. Cosa? Disco d'oro al primo singolo. Cazzo, raga. Siamo a posto. Abbiamo fatto la nostra carriera. Ciao. Ah, direi di aprire i social tipo Instagram e anche Twitter. Sono gli unici due che possono essere necessari. E TikTok dove tra l'altro dovreste anche seguirmi perché ci carico delle robe. Quindi vi aspetto. Beh, direi che il primo anno è andato alla grande. Cioè, minchia, meglio di così davvero non potevo fare. Che dite, lo facciamo un concertino? Dai. Mi hanno trovato un piccolo concerto con... Dio, piccolo. 700 persone nel nostro primo concerto dopo un singolo singolo. Direi che è una gran cosa. Ci vado. Minchia, come cazzo hanno fatto a guadagnare 60.000 euro da 380 persone? Sono un botto di soldi? Cioè, erano 160 euro di biglietto a testa? Eh, madonna, che cosa esclusiva. Ho preso due biglietti per il concerto di Samuele Bersani a molto meno. Vabbè, comunque. Comunque sono altri 6.000 euro intascati. Cioè, per carità, si stanno ciucciando i soldi che ha un piacere, eh? Quelli della casa discografica. Però, direi che per il nostro primo anno è andata alla grande. Nel bel mezzo di una performance live, il tuo microfono smette di funzionare. Che cosa combini? Faccio cantare la folla al posto mio. Sicuramente funziona. E siamo diventati una country star famosa in Italia. Tutto ha senso. Ciao, mamma, mi hai aiutato tanto in questi anni. Quindi il minimo che possa fare è darti un pochettino di soldi per aiutare te. E ripagare tutto quello che hai fatto per me. Tieni, mamma. Ma come hai rifiutato? Ma mamma, ma sei scema? Ma direi che potrebbe essere giunto il momento di scrivere il nostro primo album ufficiale. Il nome dell'album sarà... Compra questo album. Ha funzionato prima come singolo? Perché non dovrebbe funzionare come album? La cover art, invece, sarà... Un gigantesco zoom delle mie labbra. La copertina sarebbe tipo così. E speriamo che venda abbastanza, compra questo album. Perché dopo il successone del singolo mi aspetto grandi cose, eh. Come vuoi chiamare la prima traccia del tuo album? Country clickbait. Eee... Snì. Allora, ha venduto 272.000 copie. Abbiamo guadagnato più di 5 milioni. Di cui me ne entrano in tasca un decimo, purtroppo, ma tant'è. Ma non è stato molto popolare. Possiamo fare ancora di più. E mi sa che in questo momento sta per finire il mio contratto con la casa discografica. Vorrei vedere se c'è qualcuno che mi offre qualcosa di diverso, però. Mmm, 5 anni. Il 18%, 256.000 di anticipo. Sapete una cosa? Ormai siamo delle cantanti country. Questo è il nostro destino. Questo è quello che faremo. Firma il contratto. Andiamo a fare shopping. E quando dico di fare shopping, ti dobbiamo dire che ci compriamo una casa? Lo chalet non è messo male, eh. Potrei prendere lo chalet. Comprala col cash, cazosene. Tanto ce li ho i soldi, vaffanculo. E direi di rinnovarla per un budget di 14.000. Minchia, ora è top la casa che abbiamo. Bene. Oh, con poco più di 100.000 ci siamo rifatti la casa, ma alla grande. Fai un house party per dare il benvenuto alla casa. E tutti quanti sono divertiti. Direi che quest'anno mi dedico a fare un piccolo tour. Minchia, hanno accettato 8 settimane. E andrai a Napoli, a Firenze, a Lisbona, a Bratislava, Oslo, Amman, Auckland e Melbourne. Minchia, ci vado subito. Scherzi. What? 6 milioncini così. E perché ne ho soltanto 3 in banca? Che è che si è ciucciato metà dei miei soldi? È lo Stato italiano. Lo sapevo. Dannazione, agenzia dell'entrata e non mi avrai mai. Cioè, in realtà mia è come, però. 8 date. Il che vuol dire che c'erano circa 50.000 persone a concerto. Minchia. Oh no, mia mamma è diventata un fantasma. What? Mamma non ha più una faccia. Mamma? Ok, mamma ha ancora una faccia. Allora, siccome sono famosa e c'ho un botto di soldi, sapete cosa potrei fare? Nulla. Andare avanti e scrivere un altro album. Così ne faccio altri. Ecco cosa potrei fare. Che bello. Entrambi dischi d'oro. È giunto il momento di fare un disco di platino, raga. E per il mio prossimo album mi ispirerò alla più grande cantante country mai esistita. Dolly Parton. E il nome dell'album sarà Giovanna Elena. E il nome della prima canzone dell'album sarà... Lizard sulla Biga Pog. Hanno accettato. E attenzione perché abbiamo la nostra prima collab con Maria Sharapova. Dobbiamo scegliere il tema della canzone. Una breakup song. Quella di Giovanna Elena. E non abbiamo venduto un gran... Oddio, no. In realtà abbiamo venduto un sacco. Cioè, Lizard sulla Biga Pog è stata la traccia migliore che potessimo immaginare. Piuttosto popolare. Abbiamo guadagnato un milione e sette da sto album. Molto fico. Ah, cacchio. Adesso che sono famosa posso anche fare queste cose. Posso scrivere un libro. E il libro lo chiamerò Things I Did Don't Do. E abbiamo guadagnato circa mezzo milione di euro da questo libro. Quindi, fico. Ci stava. Posso prendermi un animale esotico? Perché tutte le celebrità devono avere qualcosa di particolare. Eccolo qua. Il dealer di animali esotici. Daie. Una tigre siberiana di nome Savanna? Magari no. Al di là del fatto che è fottutamente pazza e potrebbe uccidermi in qualsiasi momento, mi costa sette mila euro al mese. Che ce li ho? Ma è un po' troppo. È però uno Snake di nome Mila. Dai, prendo lo Snake. È lo Snake. Come lo chiamerai? Sarà Mila the Snake tutto attaccato. Sarà anche il suo handle di Instagram. Così ci farò i soldi col suo profilo. Ciao Mila the Snake. No, Ursula. Mi manchi, Ursula, poverina. Mi hanno invitato a un concerto con seicentomila persone a Bucarest. Ma secondo voi sono scemo e non ci vado? Ovvio. Minchia. Ho guadagnato 6 milioni di euro da un singolo concerto in Romania. Raga, ho sbancato, cazzo. Eh, Giovanna e Elena, disco d'oro ufficiale. Bravi, cazzo. Bravi. E quindi, dopo aver fatto l'album, ovviamente, è giunto il momento di fare un nuovo tour. Eh beh. Eh beh. Qui arrivano un sacco di soldi, fermi. Bologna. Si comincia dalla mia città. Ciao. Sicuramente arriverò a vedere il tuo concerto, mia, Agnello. Non ti preoccupare. E che secondo voi rifiuto? Qua ci facciamo 20 milioni giusto da questo tour. No, ok. Non sono 20, ma sono 14,4. Io, quando ho iniziato questo video, ho detto, vabbè, dai, faremo una carriera un pochettino sgrausa. Invece no. Merda. Fatemi fare qualcosa di stupido, però. Perché adesso, cioè, non va bene. È troppo seria. Minchia, ho 23 anni e 18 milioni in banca. Quanto cazzo posso essere fallito che io nella vita vera ho 25 anni e il mio conto in banca si ferma qui, al 4. Mentre stai performando la tua canzone Lizard sulla biga Pog a un gay nightclub, una persona del pubblico sale sul palco e ti lecca la scella? Ti lecco l'orecchio. Ti è. Music Festival a Napoli, 600.000 persone, portiamoci a casa sti 14 milioni così per un singolo concerto. Madonna, ho sbagliato tutto nella vita. E infatti, come immaginavo, la casa discografica adesso vuole che faccia un altro album. Che l'avrei effettivamente fatto, quindi ci sto. E lo chiameremo, lo faccio per voi. Ah, cazzo, devo scegliere il titolo della canzone. Questo album è sponsorizzato? Bellino come titolo, mi piace. Ho venduto quasi 6 milioni di copie, doppio platino, 21 milioni di guadagno. E il nostro primo singolo di inizio carriera è diventato un disco di platino, madonna. E signori, come ogni singolo buon artista che si rispetti, sapete cosa devo fare? Devo bruciare i miei soldi in qualche modo. Quindi, facciamolo nella maniera che più mi diverte e che più odio su questo gioco. Andiamo al casino. Raga, betto 10 milioni a Blackjack. No, 10 magari no. Facciamo circa 5 milioni, vai. Maledetto Raffaele. Oh no, sono io contro la mia nemesi, Raffaele. Hit me. Stop. Ti sta bene, Raffaele, merda. Oh no, ho perso. Sto avendo troppa fortuna in questa vita, non ha senso. Oh, quando è che arriva la collaborazione col papà di Anna Montana? Dai, eh. 6 anni al 18%. Tanto ormai qua i soldi li abbiamo fatti. Direi di fare un tour per il mondo. Ed è dato alla grande, meglio di così non poteva andare. Signori, io posso ritenermi soddisfatto, cazzo. Cioè, io più di così non posso fare. Andiamo a realizzare un nuovo album. Il titolo sarà Bella Regaz, mi ritiro. Io che guardo verso un campo di grano. Ah, quanto è magico. E il titolo non sarà Working 9 to 5, ma amo i vostri soldi. Apprezzano la visione, sì. Apprezzano il messaggio che voglio condividere con questo album. Grazie, Overture Records. Oh, mio Dio! Io qualche secondo fa l'ho detto per scherzare che volevo una collab con il papà di Anna Montana. Ma Billy Ray Cyrus è arrivato davvero? Ah, no, non è arrivato a lui. È dedicato a lui. Scusatemi, non volevo. Tutto quello che devi dire adesso è che cosa di lui ti ha ispirato. Il suo stile. Non è andato molto bene, è questo. Purtroppo non è andato molto bene. Speravo meglio. Comunque ci ho guadagnato due milioni. Posso definirmi scioccato? Cioè, per la primissima volta nella vita non ho fallito su Bitlife. Anzi, è andata meglio del previsto, considerato che sono una cantante country di Napoli. Pog. 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 Grazie a tutti